Erano le ore 21 e 25 delle 25 gennaio 1972, esattamente 50 anni fa, quando Ancona e alcuni comuni limitrofi furono colpiti da una forte scossa di terremoto, settimo grado della scala Mercalli come si misurava all'epoca, preceduta da un forte boato che proveniva dal mare. La città finì in un vero e proprio incubo che durò 11 mesi. Fu il terremoto più forte e più lungo della storia del capoluogo. Molti quella sera scesero in strada, in gran parte inconsapevoli di quello che stava accadendo. Solo i pianziani ricordavano infatti il sisma precedente, quello del 1930. Con il passare delle ore, tutti presero però coscienza del fatto che si trattava di un terremoto, un sisma che appunto avrebbe accompagnato per molti mesi la vita degli anconetani con una serie di scosse, le più potenti delle quali si verificarono di notte. Lo sciame sismico ebbe il suo culmine le 14 giugno, una scossa di 15 secondi al decimo grado della scala Mercalli, che mise definitivamente in ginocchio una città. In mezzo a questi due eventi, centinaia di scosse investirono ancora. Non ci furono vittime provocate dal sisma, pochi persero la vita per lo spavento e un vigile del fuoco ausiliario proveniente dal comando di Bologna morì in un incidente stradale mentre era impegnato nell'operazione di sgombero del vecchio ospedale psichiatrico. Risultarono inagibili 7.000 edifici, tra cui molte scuole, edifici pubblici, le poste centrali, il Museo archeologico nazionale, Palazzo degli Anziani e molte chiese. Fu immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi. Con i vigili del fuoco intervennero l'esercito, la marina militare che inviò il battaglione San Marco per l'allestimento delle tendopoli e delle cucine da campo, la carita sedio cesana, gli scout e molti volontari. 30.000 anconetani vivevano sotto le 1.453 tende montate in 56 punti del centro urbano e della periferia. La più grande tendopoli fu allestita all'interno dello stadio d'Orico. Almeno 600 persone trovarono alloggio negli autobus parcheggiati nelle piazze, 1.500 nei vagoni ferroviari fermi alla stazione, 1.000 nelle palestre delle scuole agibili. Altri alloggiarono nella nave traghetto Tiziano ancorata in porto. Furono distribuiti almeno 200.000 pasti caldi e 15.000 pacchi con cibi freddi.